In questa occasione incontriamo invece tra le altre voci quella di Davide Perino e per intenderci voce di Frodo Baggins nel Signore Lillenelli. Ciao. Bene Davide, entriamo un attimino nel... Diciamo, adesso non voglio soffermarmi sul personaggio di Frodo anche perché insomma è magari un po' troppo scontato. Sì. Vogliamo scoprire un pochino altri aspetti sia tuoi che personali che artistici. Comincerei con la prima domanda. Quando hai iniziato a fare il doppiatore? Allora, io ho iniziato a fare il doppiatore un po' tardi. Se... aspetta, se parliamo rispetto a tutta la mia vita. Perché ho iniziato a fare l'attore... comunque a lavorare nel cinema quando avevo due anni e mezzo. Ho iniziato con un film che si chiamava Magic Moments con Sergio Castellitto e Stefania Sandrelli per la regia di Odorizio. Poi da lì ho fatto trasmissioni, pubblicità, serie televisive, personaggi di puntata... un sacco di cose. sfilate, ho fatto Donna sotto le stelle, con Ornella Muti, ho sceso le scale di Piazza di Spagna, poi un anno di trasmissione con la Buonaccorti che si chiamava Pronto chi gioca. Tante e tante pubblicità. E verso i sei, sette anni invece iniziai con il doppiaggio. Grazie. 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 Grazie.